Mi raccomando se non vuoi perderti nessun video su questo canale ti consiglio di premere la campanella in alto a destra per ricevere ogni giorno i feed dei video che usciranno sul canale. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti a distanza di tantissimo tempo in un nuovo video analisi di un trailer dedicato a Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna. Ragazzi ieri è stato rivelato oltre al trailer che probabilmente tutti avrete visto e del quale ho fatto anch'io un video a riguardo un nuovo trailer riguardante una mossa Z di Komuo. Mossa Z molto particolare perché permetterà al Pokémon di colpire entrambi i partecipanti alla battaglia nel caso di una lotta in doppio e inoltre boosterà al Pokémon tutte le sue statistiche un po' come fa Forza Antica. Volevo solo precisarlo all'inizio video perché ieri è uscito per l'appunto questo trailer e mi sembrava giusto comunque per chi magari se lo fosse perso informarvi di questa notizia. Detto già ragazzi direi di non perderci in ulteriori indugi e di analizzare il trailer italiano. Non ci sarà nulla a riguardo rispetto al trailer giapponese perché per l'appunto è molto simile a quello italiano se no per alcuni dettagli che già conoscevamo come ad esempio Ultra Solgaleo e Ultra Lunala oppure gli starter che è stata una cosa ridicola oppure l'ultra bracciale nero che comunque avevamo già visto e che nel trailer giapponese che troverete in descrizione sperando di ricordarmi non diciamo riceve particolari nuove menzioni. Ecco detto ciò direi per l'appunto di iniziare con il trailer italiano. Dopo aver visto i tre starter nell'overworld insieme al giocatore possiamo ammirare quello di cui già parlavo l'altro giorno ossia un Rockruff che sembra apparentemente seguire l'allenatore. A mente fredda ho ragionato un pochino sulla questione e sono sempre più convinto che difficilmente si tratta di una semplice di un semplice fattore di passeggiata con il Pokémon. Non sarà un Pokémon che segue l'allenatore come in Earth Gold e in Soul Silver che vi seguiva anche nei centri Pokémon. Sarà un qualcosa di più shallow e di più easy dedicato comunque al maggior contatto tra l'allenatore e il Pokémon. Ora da questa immagine non si può capire molto di che cosa si tratta ma il fatto che ci sia ad esempio una nota musicale sopra il Pokémon fa pensare che questo Pokémon si stia in un qualche modo divertendo. Insomma come altri hanno fatto notare sembra una di quelle animazioni che venivano fuori quando si parlava al Pokémon in Earth Gold e in Soul Silver. Cioè nonostante per l'appunto come già detto non penso che sia una passeggiata quanto piuttosto una sorta di modalità che ci permette di giocare con il Pokémon nell'overworld all'interno magari di un semplice percorso. Magari semplicemente uscendo da quel percorso lì cambiando area bisognerà disattivare questa particolare modalità. Ovviamente siamo nel campo delle supposizioni da questo trailer in generale è molto difficile trarre delle conclusioni specifiche. Ma l'idea potrebbe essere questa oppure come detto nel video di ieri potrebbe semplicemente trattarsi che alcuni Pokémon magari più piccoli possano essere in grado di accompagnare l'allenatore. Ma questa la vedo un po' difficile mi risulterebbe un pochino strano. Piuttosto la possibilità di giocare con un Pokémon all'interno di un percorso mi sembra più accettabile e più gradita. E comunque si tratterebbe di una modalità in stile poche io e te quindi nulla di incredibilmente eccezionale ma passiamo subito alla prossima parte importante del trailer. Oltre a vedere nuovi scenari come una sorta di grotta barra foresta degli Executor che ballano la samba e il Super 4 di tipo volante abbiamo l'immagine che ha creato forse più scalpore. Infatti abbiamo Morel o Ryuki nella versione inglese che ferma l'allenatore in un luogo molto molto particolare. Penso che quasi tutti lo abbiano riconosciuto io ammetto che a prima vista non l'avevo notato ma questo luogo sembra in tutto e per tutto una sorta di remake della palestra di Let's Surge. Ovviamente ragazzi e questo penso sia ovvio non si tratta effettivamente della palestra del capopalestra di tipo elettro di Aranciopoli. Sembra piuttosto una sorta di tributo e io sostengo ora che questo luogo possa essere una sorta di dogelotta. Perché? Perché nella prima città visitabile della terza isola di Alola e che sinceramente in questo momento ho rimosso dall'esistenza il nome, pare per l'appunto esserci un luogo che sembra essere una sorta di dogelotta in costruzione e che vedete sicuramente qua nell'immagine che vi metterò in editing. Quindi probabilmente questo posto si trova nella terza isola in quella città dove c'è per la per intenderci il giardino dedicato a Yoto. E nulla, penso sia una sorta di dogelotta, sinceramente mi fa venire in mente questa cosa il fatto che ci sia un karateka al posto di quello che dovrebbe essere Let's Surge. Però ragazzi sicuramente non si tratta di palestre all'interno del gioco perché per l'appunto quello lì non è un campo palestra e poi vedremo in un frame più avanti che nella regione non ci sono abbastanza nuove strutture per inserire per l'appunto delle palestre. Detto ciò direi che ho detto tutto quello che pensavo in questa immagine, potrebbe anche trattarsi di un semplice edificio normale e di un easter egg alla prima generazione, ma mi piace pensare che ci possa essere una sorta di dogelotta in quella città e in quella particolare costruzione. Dopo aver visto di sfuggito un membro della fondazione Eder che ci testimonia la presenza di questa organizzazione all'interno dei prossimi giochi abbiamo questa immagine molto particolare che ci mostra un nuovo edificio più avanti andremo a vedere anche dove è collocato sulla mappa ora, alcuni hanno preso un posto che si trattasse del Pokewood altri hanno detto che probabilmente sarà una struttura esclusiva di settima generazione e di Ultrasole e di Ultraluna e io sinceramente penso di essere più d'accordo con i secondi perché? Perché guardando l'immagine noto sinceramente che quelli che molti hanno definito poster di film non sono assolutamente poster di film c'è una cinepresa, è vero, ma potrebbe anche essere una macchina fotografica e poi abbiamo nelle vetrine degli specchi quindi sinceramente mi sembra strano che sia il Pokewood in questo momento non saprei che cosa dire potrebbe essere tranquillamente uno studio fotografico o potrebbe essere un centro commerciale potrebbe essere davvero tantissime cose in questo momento è davvero difficile dirlo e sinceramente mi sembra assurdo spingermi in delle supposizioni che non avrebbero alcun fondo di verità in questo momento parliamo adesso di una delle due cose più che altro di cui volevo assolutamente parlare in questo video ossia la mappa ora, tralasciando il fatto che alcuni hanno parlato di Apocalisse e mi sembra esagerato parlare di Apocalisse la mappa presenta alcune differenze strutturali con quella della vecchia Lola di seguito ragazzi abbiamo una nuova spiaggia o quella che sembrerebbe essere una nuova spiaggia sulla seconda isola vicino all'hotel che avevamo già visto ancora prima dei trailer di Pokémon Sole e Luna momenti e nulla sembra essere una nuova spiaggia abbastanza comunissima potrebbe essere una nuova zona che potrebbe ospitare secondo me una sorta di cast secondaria particolare tipo quella di catturare i Wimpod insomma una roba di questo genere abbiamo poi una struttura molto molto particolare sulla terza isola verso sud che è quella che state vedendo in questa immagine cerchiata e che anche in questo caso veramente non saprei che cosa potrebbe essere non c'è nella Lola normale e sinceramente in questo momento ho la mente totalmente annebbiata e non saprei assolutamente dirvi di che cosa si tratta potrebbe essere un baracchino potrebbe essere qualsiasi cosa potrebbe avere importanza come potrebbe non averla probabilmente in questo caso saranno tutte strutture più o meno importanti che ospiteranno qualche cast o qualche personaggio interessante insomma non penso che in generale le strutture che vedremo in questo video saranno molto importanti a livello di trama più che altro daranno dei piccoli cambiamenti all'interno dello svolgimento del gioco magari delle piccole cast secondarie consegneranno strumenti particolari saranno strutture diciamo utili al giocatore nel corso della sua avventura abbiamo poi una struttura sulla prima isola che come vi dicevo prima è secondo me quella struttura che abbiamo visto qualche istante fa all'interno della città più grande per l'appunto della prima isola una struttura su cui non mi dilungo oltre non so che cosa sia e sinceramente non mi spingo in ipotesi azzardate come la struttura di cui abbiamo appena parlato che è stata costruita dove prima c'era un cantiere anche una seconda struttura sulla terza isola è stata costruita al posto di una sorta di zona di lavoro la città è la stessa del doge lotta e anche in questo caso è una struttura gialla che va a sostituire una sorta di cantiere già preesistente e che ovviamente non avendo visto nel video non possiamo commentare ma sicuramente è un altro cambiamento che caratterizza questa nuovissima regione di Alola e infine ragazzi abbiamo una nuova struttura anche sulla seconda isola nella città in stile nipponico dove risiede il Kauna di tipo roccia anche in questo caso sempre su un cantiere e sempre difficilmente identificabile anche se quasi quasi mi sembra simile a quella della prima isola ma non penso sinceramente siano la stessa cosa credo che quella struttura di cui abbiamo già ampiamente parlato sia una cosa a se stante come quella sulla seconda isola inoltre ragazzi due piccole introduzioni che potrebbero significare qualcosa beh oddio una significa sicuramente qualcosa l'altra potrebbe vediamo ragazzi all'interno del mare di Alola dei Wailord o quelli che sembrerebbero essere dei Wailord sinceramente penso che sia molto interessante questa cosa perché potrebbe denotare una sorta di cambiamento della fauna e della flora anche all'interno della regione di Alola con conseguenti nuovi pokemon catturabili nuove forme Alola nuovo tutto insomma potrebbero esserci veramente pokemon di ogni generazione all'interno di questa isola di questa regione scusatemi e sicuramente potremo ampliare il pokédex che avevamo già in parte completato all'interno di pokemon sole e pokemon luna infine ragazzi fattore più evidente che ho lasciato appositamente per ultimo abbiamo quello che sembra essere una sorta di ultra varco sopra l'altare di sol galeo o di lunala ovviamente rispettivamente al gioco in cui si gioca è probabilmente un ultra varco anche se il design mi ricorda molto di più una di quelle nubi barra portali che c'erano all'interno di Horus che erano legati a Dupa e tutte cose di questo genere alcuni hanno parlato anche di mondo distorto ma sinceramente mi sembra veramente azzardata come cosa però potrebbe anche essere sicuramente è una connessione a un'altra dimensione e siccome i giochi si chiamano ultra sole e ultra luna secondo me si tratterà più che altro della dimensione delle ultra creature ma sicuramente non si possono escludere le altre due ipotesi potrebbero anche tranquillamente essere le altre semplicemente ritengo molto molto più probabile quella delle ultra creature perché per l'appunto il gioco si baserà sicuramente almeno secondo me su un pokemon molto particolare Necrozma e che ragazzi nei trailer è apparso e adesso andremo a parlare più approfonditamente anche di uno degli argomenti che ha più scosso la community negli ultimi tempi ho visto gente dire cose allucinanti su questo pokemon ho visto gente sostenere che fosse un arceus ho visto gente sostenere che fosse una fusione tra solgaleo e lunala secondo me ragazzi non è nulla di ciò ora sinceramente non so come qualcuno possa immaginarci un arceus lì è totalmente un altro pokemon arceus non ha quegli spuntoni su quelle che potremmo definire guance e sicuramente non rappresenta nessun pokemon esistente o almeno non nessun pokemon esistente come lo conosciamo ora immaginate che necrozma perda la sua armatura e si diciamo leghi in un qualche modo comunque vada a ricoprire solgaleo e lunala dovrebbe pur sempre rimanere qualcosa e secondo me quel qualcosa è dato per l'appunto da quel pokemon all'interno di quella sorta di nube che racchiude se vogliamo sole e luna come se fosse un eclissi o magari un crepuscolo visto che abbiamo già delle references al crepuscolo con l'icadrock secondo me ragazzi quel pokemon è per l'appunto una nuova forma di necrozma ossia la sua forma senza armatura questa mia teoria fra virgolette è sostenuta anche dal fatto che gli occhi di questo pokemon oltre a non essere per nulla simili a quelli di arceus rispecchiano diciamo i colori dell'iride rispecchiano i colori del prisma dell'arcobaleno di come volete chiamarlo che sono presenti anche all'interno dell'armatura di necrozma quindi ragazzi l'analisi del trailer può finire qua vi dicevo c'è anche un trailer giapponese ma non dimostra nulla di nuovo e nulla che valga la pena di essere analizzato più approfonditamente detto ciò io spero che il video per l'appunto vi sia piaciuto se è così vi invito come solito lasciate un mi piace un commento un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti avrei voluto fare questo video in facecam ma ragazzi è tardi e quindi l'illuminazione sarebbe stata pessima ho preferito per un fattore di qualità farlo così con le immagini su uno schermo che adesso vedrò come editare mi raccomando premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed e passate dai social per rimanere sempre in contatto con me detto ciò ragazzi noi ci becchiamo in un prossimo video ciao